Questa padronale è dedicata alla nostra padrona che è Santa Bernadette, sono felicissimo che iniziamo con questo concetto dei fori, di tutti i fori, dove la mia parola è più origine che parpeggio, è di tanta parte che la mia parola è di eserfizio e quindi parpeggio e quindi questo mi consente di essere equo, perché sto con tutti e qui pure lo Mauro, e io che saluto con Paolo il senso di questo concetto è, nel nome stesso di concetto, che ha come tipologia il significato di stare insieme, di organizzarsi per vivere insieme, di fare tutti gli sforzi per accortare i cuori, i figli con gli altri e quindi è alla luce di questo significato profondo che come iniziamo la nostra festa il desiderio di ogni padrona, di ogni comunità padroniale è quella di camminare insieme e noi camminare insieme cantando, come su di Dio a Santa Bernadette perché chi canta e cammina, arriva prima, prega due volte e cammina il doppio perché sente molto meno il peso, il peso della ricorda di piano offerma il Signore, il offermento di Maria, che a parte Santa Bernadette questa nostra serata, questo nostro desiderio di condividere tra parrocchi, il medesimo caso di contatto e auguro a tutti una buona serata in nome del Padre e del Signore Ave Maria, io ringrazio il Signore e il tuo Signore tu sei il benedetto tra le donne e benedetto è il frutto del tuo Signore Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi che c'è il tuo Signore adesso è l'ora della nostra festa allora devo introdurre questa serata presentando il coro di Santa Bernadette il coro nasce dalla visita del Papa Giovanni Paolo II nel 1990 abbiamo cominciato a incontrarsi e abbiamo cominciato anche ad essere più coro, più gruppo per l'animazione della liturgia, quindi sia la domenica, i tempi forti di Natale, Pasqua, matrimoni, battesimi ecco un gruppo che è nato così come animazione liturgica abbiamo preparato ed eseguito un videoconcerto su Giovanni Paolo II animato la preghiera dei giovani nella chiesa dei Sant'Agnesi in Agone, a Piazza Navona e partecipato a concerti con altri cori la voglia di migliorare ci ha spinto ad ampliare il nostro repertorio con brani più impegnativi che esprimono, oltre la fede, valori di fratellanza e di gioia l'appartenenza alla chiesa e nello stesso tempo la passione per la musica ci fanno condividere questo progetto che è vissuto con impegno ed entusiasmo adesso il coro comincerà una serie di canti di brani, sono nove brani e presenteremo ogni singolo brano potete trovare sul foglietto il titolo, noi faremo una breve introduzione grazie 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 grazie